A Proda anche in Molise il sindacato FISMU che si occupa di sanità. A Campobasso il primo congresso regionale per affrontare i temi scottanti che riguardano la sanità molisana, un momento di confronto ma anche l'occasione per puntare alla realizzazione di un progetto che metta al primo posto la salute dei cittadini e un miglioramento delle condizioni lavorative dei medici e più in generale di quanti lavorano nel campo sanitario. Questo sindacato nasce ufficialmente anche in Molise. Nasce in Molise, siamo orgogliosi di questo e del cammino che abbiamo fatto. E con quali ambizioni, con quali prospettive? Le nostre prospettive ovviamente per ogni sindacato sono di crescita ma soprattutto di poter realizzare la pregettualità che è nel nostro programma. In primo piano la sanità, insomma un tema nota dolente soprattutto qui in Molise. Exclusivamente la sanità essendo noi un sindacato di sanitari ma soprattutto guardando fondamentalmente a quelle soluzioni anche organizzative che permettono di recuperare una sanità di qualità non indebitata. Al termine dei lavori è stato eletto segretario regionale Ernesto Lavecchia. Primo segretario regionale di questo sindacato. Abbiamo fatto il nostro primo congresso, una grande soddisfazione, una grande partecipazione dei colleghi. Ci poniamo nell'ambito della sanità molisana con un numero di iscritti di rilievo per cui saremo un giusto baluardo nella difesa non solo dei diritti dei medici ma soprattutto dei diritti dei cittadini. Con questa fase particolarmente delicata per la sanità molisana, qual è il vostro progetto? Quali sono i punti più importanti del vostro programma? Allora per quanto riguarda un punto di vista nazionale, nella contrattazione nazionale noi partiamo e cerchiamo di ottenere il contratto unico in maniera tale che esista il medico e non il medico di serie A, di serie B e di serie C. Per quanto riguarda la nostra realtà, quello che stiamo proponendo alla parte pubblica è quella della concertazione, cioè quello di poter tenere da conto i medici nell'atteo della programmazione. La programmazione oramai da troppo tempo che viene abbandonata, non si tiene conto di quelle che sono le necessità degli operatori, non si tiene conto della necessità dei cittadini e soprattutto non si tiene conto del depoapimento delle strutture e del personale che stiamo ottenendo. Pagliamo lo scotto di questa non programmazione nel tempo. Una cosa va detta, che non esiste solo la mala sanità. Noi abbiamo professionisti professionali che sono validissimi, sia nell'ambito medico che nell'ambito non medico, per cui le professionalità ci sono tutte, dobbiamo semplicemente metterle a regime.